Amici, buona giornata e buon caffè. In questo inizio di martedì 3 ottobre siamo alla puntata numero 96 dell'edicola del Trap. Intanto grazie per quelli che mi hanno scritto, che mi hanno dato sia qui che soprattutto su Facebook un forte appoggio a questa iniziativa e queste sono cose che fanno sempre piacere, il feedback è importante per continuare in una attività che è indubbiamente molto impegnativa e che comunque dà soddisfazioni perché oltretutto risponde a una mia antica passione che è quella del giornalismo e di informare anche se in questo caso con un format del tutto nuovo ed originale, penso perché ecco un contenitore di questo tipo o almeno con questa struttura è indubbiamente sperimentale ma interessante. E allora veniamo subito alla giornata odierna, prima di ogni altra cosa come sapete, come nostra abitudine, diamo un'occhiata fuori la finestra nel senso di guardare che cosa succede sulla regione Marchia da un punto di vista meteorologico. Previsioni per oggi, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati, in montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni per domani, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni, in montagna, bel tempo, con cieli sereni. nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli quasi sereni e passiamo subito alla rassegna stampa vedete il Corriere della Sera con la novità della scossa di terremoto l'ennesima scossa di terremoto a Napoli ieri sera poi un 4.0 di magnitudo poi replicata da una scossa nel corso della notte di minor intensità e ovviamente la magnitudo non è altissima vedete 4.0 però il problema è che si tratta di un terremoto molto superficiale quindi non c'è dispersione di onde sismiche chi si trova sull'epicentro che appunto la zona dei campi flegrei chiaramente lo avverte come un terremoto molto forte poi vedete qualche danno c'è tanta preoccupazione soprattutto sotto il profilo della prospettiva perché il fenomeno è studiato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che abbiamo visto nei giorni scorsi lo segue con particolare attenzione e anche qualche preoccupazione considerata la storia del passata della zona dei campi flegrei e del brattisismo. Andiamo avanti BTP valore perché è una buona scommessa se i tassi caleranno in cinque anni la vendita dei BTP valore che sono sostanzialmente indirizzati al piccolo risparmio alla famiglia ha avuto un successo straordinario in un momento in cui chiaramente con l'inflazione alta e con le banche che sicuramente non danno interessi sui depositi diventa una soluzione abbastanza interessante per i risparmiatori italiani. Qui vedete migranti contatti finalmente fra Roma e Berlino, Meloni e Scholz cercano ora una soluzione dopo le tensioni che ci sono state tra i due paesi proprio per l'atteggiamento, l'atteggiamento veramente un po' discutibile della Germania su alcuni aspetti. Andiamo avanti con quanto riguarda la Gazzetta dello Sport che si occupa della grave crisi della Sabdoria che era finita in serie B ma in serie B si trova in fondo alla classifica e vedete Pirlo resta ma indubbiamente la squadra che non sembra così male come invece i risultati fanno pensare da un punto di vista tecnico la squadra non ingrana e vedremo che cosa succederà in serie B per questa gloriosa formazione di Genova. Vorrei andare rapidamente a questa notizia Sinner soffre, vomita ma alla fine batte Dimitrov, ora è in semifinali a Pechino contro Alcaraz. Andiamo avanti con l'Ansa regionale, eccola qui la notizia al via la demolizione del ponte del coppetto banneggiato dall'alluvione di oltre un anno fa. Vedete che i lavori continuano ad andare avanti per la ricostruzione e per la sistemazione delle infrastrutture dopo quel momento drammatico e qui il comitato delle regioni UE sbarcha ad Ancona a febbraio del 2024. Andiamo al Corriere Adriatico. Ecco, il Corriere Adriatico si occupa del nuovo volo Falconara-Roma. Andata e ritorno, volo puntuale e comodo così le marche in 55 minuti possono uscire dall'isolamento e indubbiamente considerando le difficoltà sulla tratta ferroviaria Ancona-Roma dove ogni volta è un po' è una scommessa e la soluzione del volo potrebbe essere molto interessante per chi deve andare a Roma in tempi accettabili ma soprattutto certi. Andiamo avanti sul Corriere Adriatico, diamo uno sguardo, festini notturni dei baby vandali, tra i resti l'ex Assam, fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri. Ancora una volta parliamo di situazioni che sono abbastanza frequenti in questo periodo. Una notte da leoni fra amianto e immondizia all'ex Assam in via Alpi e qui purtroppo la questione riguarda i tanti, troppi edifici abbandonati che ci sono un po' in tutte le marche e che non trovano risposta ad Ancona solo, ce ne sono tantissimi e che diventano non solo occasione di feste clandestine e quant'altro ma anche abitazioni per i tanti senza tetto in attesa magari di una collocazione o del permesso di soggiorno. Ancora vedete nell'azienda agricolo lavoratori regolari ha macerato una discarica di liquami a zero norme di sicurezza nei guai un imprenditore. Andiamo al resto del Carlino che parla invece di quel caso in cui furono trovati, poi lo approfondiremo tra poco, tre componenti di una famiglia morti in casa dopo tanto tempo e questo è un dramma della solitudine e vedremo tra poco di che cosa si tratta e qui è la stessa notizia dei lavoratori in nero. A Ancona Today invece è morta Lorenza Cingoli, storica autrice di La Melevisione, ricorderete La Melevisione ha avuto un successo straordinario, si è spenta a soli 58 anni, aveva firmato nella sua carriera grandi show per i bambini e Lorenza Cingoli è una storica autrice televisiva, è morta a Ancona, era nata a Ancona ma si era realizzata professionalmente a Milano. Andiamo avanti in cronache maceratese, vedete sfondo ancora incidenti, sfondo il muretto di una casa, esplode il contatore del gas, l'auto viene investita e si valta. Ecco questa è la notizia di cui parlavamo prima, la tragedia della famiglia Canullo, una tragedia particolare avvenuta a Macerata, forse lo ricorderete, madre, padre e figli erano stati morti nella loro casa di Macerata il 6 settembre del 21. Secondo una ricostruzione il Eros Canullo che aveva 80 anni si era sentito male, era caduto a terra ed era morto, il figlio Alessandro di 54 e la moglie Eros, Angela e Maria Moretti di 76 immobilizzati in casa sarebbero, e questo veramente drammatico, orribile, morti di inedia. Alessandro è riuscito però a telefonare per chiedere aiuto, poi però a casa di una disabilità che aveva avuto dopo un grave incidente era caduto a terra e non era più riuscito a muoversi. Drammatica questa situazione e le indagini non saranno chiuse per vedere se ci sono delle mancanze, delle carenze nei soccorsi o se qualcuno avrebbe potuto fare qualche cosa. Andiamo avanti ancora, vedete questa è la stessa notizia, due braccianti clandestini e una discarica abusiva di liquami, un'altra notizia precipita col parapendio mentre sta atterrando trasportato a Torretti. Chiudiamo con gli UTVRS, ma allora durante la messa Rosino muore mentre prega padre Pio, è accaduto a Pesaro, donna picchiata in strada dal marito, questo invece è accaduto ad Ancona e continua la serie di violenze quotidiane, ricordate che ce ne siamo occupati ieri con Stefano Berti per quello che riguarda questo andamento veramente sconcertante della violenza quotidiana. E siamo all'almanacco, cosa accadeva il 3 ottobre negli anni passati? Allora una cosa che vi voglio segnalare perché ha un significato, adesso non sarà stato il 3 ottobre, non sarà stato l'anno preciso, ma secondo una leggenda il 3 ottobre, pensate, del 2333 avanti Cristo, parliamo di 1600 anni prima della fondazione di Roma, quindi la leggenda dice così che il 3 ottobre del 2333 c'è la fondazione del regno di Ko Choson in Corea. Lo segnalo perché abbiamo la presunzione di pensare che praticamente la civiltà sia nata qui dagli egizi, gli assiro-babilonesi, poi i romani, ma nel 2333, saranno stati 100 anni prima o 100 anni dopo, comunque c'era già una importante civiltà in Corea. Invece nel 42 avanti Cristo, e qui la data sembra essere abbastanza certa, era il 3 ottobre alla prima battaglia di Filippi, il famoso ci rivedremo a Filippi, i triunfi di Marco Antonio e Ottaviano combattono la battaglia contro gli assassini di Cesare, Bruto e Cassio. Anche se Bruto sconfigge Ottaviano, Antonio sconfigge Cassio e poi si sa come andrà a finire. E invece il 3 ottobre del 1789 George Washington, il primo Presidente degli Stati Uniti, ha l'idea di proclamare il primo giorno del ringraziamento. Poi nel 1863, quindi pensate, diciamo una settantina di anni dopo, il giorno del ringraziamento viene spostato da Abraham Lincoln e viene fissato, in quello che poi è la data odierna, nell'ultimo giovedì di novembre, ma prima è nato il 3 ottobre. Ed è il 3 ottobre del 1837 quando Samuel Morse brevetta il suo codice che, come sapete, in tempi di marconisti poi dopo ha salvato decine e decine, anzi migliaia si può dire, di vite consentendo gli SOS delle navi prima che fosse inventata la radio. Poi siamo al 3 ottobre del 1866, è la data del Trattato di Vienna, col quale affine la Terza Guerra di Indipendenza Italiana. E a proposito di guerre, il 3 ottobre del 1935 l'Italia, che era tutto tranne che pacifista da quello che risulta, invade l'Etiopia con le truppe guidate dal generale Emilio di Bono. Ecco, ancora una data importante perché era il 3 ottobre del 1942 quando una canzone White Christmas 1942 raggiunge il primo posto delle classifiche. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie di White Christmas, ma il suo esordio fu il 3 ottobre del 1942. Invece nel 1973, durante un viaggio in Bulgaria, il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer ha un incidente automobilistico. Molti ritennero che invece si trattasse di un attentato. Nel 1990 in Germania la riunificazione tedesca, la Germania Est, confluisce nella Repubblica Federale. Dunque mi avete sentito un po' di appuntamenti, io vorrei anche parlarvi di quelli che saranno le anticipazioni del nostro appuntamento delle 14.30 nella giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza. Era il 3 ottobre del 2013, quindi esattamente dieci anni fa, quando in uno dei più gravi naufragi a largo di Lampedusa morirono 368 persone. È la giornata quindi dedicata alla memoria e l'accoglienza dei migranti di un dramma che non può essere soltanto affrontato né sul piano politico né sul piano nazionale, perché come sapete questi migranti in gran parte non vogliono raggiungere l'Italia, ma raggiungere l'Europa, Francia, Germania e quindi la loro prima tappa è o la Grecia o l'Italia e sono problemi migratori di grande portata e destinati purtroppo ad aumentare con il tempo. Quindi oggi è una giornata di riflessione soprattutto per l'Europa. Pensate, ci sono stati solo 30.000 morti dal 2014 ad oggi, 30.000 morti in mare, qualcosa di impressionante. Ne parleremo chiaramente con un servizio alle 14.30, ma parleremo anche delle notizie da non dare, entra in campo il criticatore. Parleremo della rubrica dell'archeologia televisiva con Carosello. Che cosa è stato? Le nuove generazioni certamente non lo sanno, per quelle vecchie è un ricordo. E infine parleremo dell'editoria di merito e la rubrica dello Zudo. In questa occasione ai 8.30 concludiamo sempre con una lettura e questa volta la lettura è di prestigio perché diamo la parola a Gigi Avante. Spiritualità di adolescente è uno scritto sempre di Walter Spadoni, un mio ex-alunno al Vallauri di Roma, scomparso in un incidente stradale del 1988. Volevo scriverti una lettera ma non sapevo dove spedirla. Volevo telefonarti ma non sapevo il tuo numero. Volevo venirti a trovare ma mi sembravi troppo lontano. Mi sentivo solo e abbandonato e cominciai a pregare. Facendolo mi resi subito conto che tu eri lì, vicino a me. Da quel momento capì che Dio è sempre presente in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Basta chiamarlo ed avere fiducia in Lui. È forse questa stessa potenza che non mi fa avere talvolta tanta fiducia nella Chiesa e nei sacerdoti. Questa scarsa fiducia non intacca però neanche minimamente il mio lato spirituale, anzi è proprio lo Spirito che mi aiuta ad andare avanti quando mi sento fermo. Parlando con Dio si possono affrontare discorsi che spesso risultano monologhi ma con un'altra persona non si potrebbero fare. Secondo me il grado di religiosità di una persona non si misura solamente in base a quante volte si va in Chiesa ma anche dal grado spirituale che un individuo ha e da come si comporta con gli altri, se è egoista, se è altruista, se è premuroso, se sa rendersi utile agli altri. Una riflessione di un diciottenne purtroppo scomparso in un incidente stradale. Per ora è tutto l'appuntamento come sapete alle 14.30 con una puntata stimolante. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.